Benvenuto a Castellammare Romero, prima intervista, hai accettato la USTAP, una squadra che retrocessa dalla Serie B. Adesso come vedi la tua scelta? Una scelta positiva o una scelta importante per il fatto che comunque adesso tanti si aspetteranno un qualcosa di diverso? Ovviamente c'è un'aspettativa alta dopo la retrocessione. Sì, sicuramente all'esterno dello spogliatorio sono sicuramente che i tifosi, la piazza vorrà fare un campionato come merita di fare la USTAP. Per questo io dico che la mia scelta è stata fondata su questo, perché non andavo a fare un campionato in una squadretta al sud, tanto per farlo, ma in una piazza vera, una piazza che ha sempre fatto il calcio nella maniera giusta, che soprattutto ha sempre raccolto dei risultati. Mi auguro di raggiungerne quanto più possibile, sapendo che comunque sarà molto difficile visto il campionato. Detto questo, ti ripeto, una volta che ho sentito che c'era la possibilità di dare lui in Stabia, poche altre offerte avevano lo stesso peso, quindi la scelta è stata abbastanza tranquilla e immediata. Ha detto che spero di farla a metà di quello che ha fatto Corona nella sua carriera, quindi sarebbe stata tanta roba. Sì, comunque come giocatore spero di avvicinarmi un po' a questi modelli qui, ovviamente fisici, perché anche sicuramente palle alte, cross, tutto questo, me lo devo imporre, anche se non è per forza una prerogativa, ma comunque ovviamente è un dato di fatto. Però spero di poter dimostrare, far vedere anche con i piedi, so fare qualcosa, insomma. Mi ha sempre detto di essere un buon giocatore che dà manovra, oltre che comunque farmi valere in area per la stanza fisica, quindi sicuramente spero di poter far vedere qualcosa di questo tipo anche qua. Detto questo, sicuramente quando mi è stato proposto a Rio Salve, mi è stato proposto di vincere il campionato, questo sono onesto. Detto questo, visto sicuramente il brasone della società, visti i giocatori che ci sono in questo momento in rosa e quelli che si spera possano arrivare, vogliamo comunque fare bene, quindi non vogliamo sicuramente fare un campionato di fatica, ci sarà da faticare, ma non vogliamo stare in fondo alla classifica, faremo di tutto perché almeno l'obiettivo, spero, del play-off possa essere raggiunto, in qualsiasi posizione possa essere, ma che almeno possa essere raggiunto, in modo da comunque dare l'usco a una stagione che sicuramente si ribadisca, si prospetta difficile, non tanto per colpa nostra quanto per merito sicuramente di quelli che saranno le squadre avversali. Detto questo, miglioreremo col tempo, una volta che saremo tutti, creiamo sicuramente un buon feeling anche grazie al lavoro del mister, questo sono sicuro, perché vedo come elabora tutti i giorni, quindi ti assicuro che tutte le componenti verranno raddrizzate affinché il campionato sarà un campionato comunque da ricordarsene. Per ora mi piace imparare qualcosa, cioè quando ci andiamo tutti i giorni, devo essere onesto, vedo che i movimenti, il tocco di palla, comunque sono dei giocatori diversi, devo essere onesto, è sicuramente il giocatore più forte di quello che posso essere io, devo essere onesto, altrimenti sarei anche io a fare i 10-20 con il Serie B e non sarei qui magari a livello e stai in C. Detto questo, spero ancora che possa rimanere a darci una mano, non lo vedo sicuramente un compagno contro cui non giocare insieme, anzi, potrebbe essere sicuramente, visto anche le sue caratteristiche, lo vedo che si muove, è un giocatore più di movimento rispetto a quello che potrei essere io, sicuramente potrebbe essere un vent'anno, per lì su vent'anno fattori societari di cui non voglio sentire parlare. Detto questo, no, responsabilità no, cioè so fare il mio, spero di poterlo dimostrare e se tutte le componenti mie, fisiche, di fiducia tutto andare in ordine, magari non le farò venti come le ha fatti lui, ma qualcuno le potrò fare anch'io. Mario Volo? Mario Volo, Rivi Centro, rapporto con Pasquale Padrino, hai parlato del mister, come sono questi primi giorni di lavoro, che rapporto hai con lui? Sicuramente è un attore che mi piace spiegare molto tutti i suoi principi di gioco, si sofferma ma è un momento in cui ancora non siamo tutti, quindi vuole che siano ben chiari magari quelli che già ci sono in prospettiva di quelli che arriveranno, i suoi principi di gioco, le sue idee, quindi ci stanno delle pause durante l'allenamento in cui proprio didatticamente spiega quello che lui vuole intendere di calcio. Il curriculum parla per lui, quindi sicuramente un allenatore preparato e sicuramente è una prova del fatto che la Juistabia non scherza quest'anno perché altrimenti ci sarebbe un altro tipo di allenatore, già che ci sia lui significa che, e ti rimanisco un altro dei motivi per cui ho citato comunque tranquillamente questa offerta perché vedendo che già l'allenatore era un allenatore molto valido, ho detto evidentemente che la società, nonostante se è processa, non vuole fare il classico anno pre-fallimento ma vuole comunque puntare ad andare avanti bene nel calcio. È un calcio strano, senza tifusi, ti mancheranno questa presenza? Speriamo il meno possibile perché qua ci sarebbe un peso diverso, insomma lo stadio con Borcher, ho la curiosità io in primis di vederlo, non so dire come sia giocare davanti a questi tifosi, quindi mi fai una domanda perché non so risponderti, spero di risponderti il più breve tempo possibile perché so che veramente potrebbero darci una grossa mano, quindi davvero speriamo che, prima di tutto per un fatto generale di salute comune che è la situazione migliore in modo che tutti quanti siamo meno in pericolo rispetto a quello che magari siamo stati negli ultimi mesi. Detto questo, se poi ci sarà la possibilità per i tifosi di tornare allo stadio, ben venga e noi ne gioveremo sicuramente. Io ti rispondo come mi ha detto il direttore quando mi ha chiamato, gli dicevo del mio entusiasmo di venire al sud, che avevo fatto solo un'esperienza all'inizio della mia carriera e tutto, lui mi ha detto il calcio è calcio, quindi mi ha risposto il calcio è uguale dappertutto, in effetti il calcio poi alla fine se fatto bene è uguale dappertutto, sicuramente subentano altre cose, altre circostanze che magari in una piazza ad esempio come al sud non c'erano come abbiamo detto prima dei tifosi. Almeno inizialmente questo fatto non ci sarà, quindi ci sarà magari più tempo per ambientarsi a questo girone, ma detto questo io penso che una volta che si facciano le cose fatte bene da un punto di vista tecnico-tattico siamo giusti, giusto allineati a quello che vuole il mister, penso che i problemi rispetto ai tifosi non ce ne siano. L'ultimo, ecco il 23 ci sarà l'esordio, il direttore Ghinassi ha già detto non saremo al completo, però tu come ti stai avvicinando a questa tua prima con la maglia della Juve Stabili? Sicuramente ci vediamo come dei matti tutti i giorni, quindi arriveremo pronti, come ti ho detto prima sempre entusiasti perché veramente ci voglia dopo questi mesi che qualcuno non gioca addirittura da febbraio, altri da inizio luglio, comunque la preparazione è stata lunga, ho iniziato ormai un mese e mezzo fa, un mese e mezzo che sono in albergo e tutto, veramente voglio tornare a quella che è la normalità fatta di partite, fatta di ritiri solo per partite e non in hotelle da due settimane, quindi davvero speriamo che arrivi veloce mercoledì in modo da misurare quelle che siano le nostre potenzialità attuali e far vedere anche comunque la società che finora sta lavorando bene, dimostrarlo, noi lo sappiamo nello spogliatore, dimostrarlo anche al di fuori nello spogliatore.